Le nostre persone, le nostre vite, tutto quello che facciamo, giorno preso. Grazie e buona conclusione a tutti. Grazie, grazie a Barca Salustri, buon Natale! Ciao, ciao, ciao! Buon Natale a tutti voi in Ammadira! Grazie, purtroppo ecco, sentivo che l'audio andava veniva. Maestro, possiamo ripartire a questo punto con Iconi, con l'orchestra giovanile, per Ave Meron Corpus, abbiamo detto, e poi per gli altri brani, appunto, Sartus, Agius Dei, Gloria, Necelsis Deo, Domine Deus e poi ovviamente Astro del Cielo. Siete tanti, è un bel vedere, ma sarà anche un piaceremo ascoltare. Prego! Balla partita. Balla partita. Balla partita. E' un bel vedere, ma sarà anche un piaceremo ascoltare. Siete tanti, non è ancora un piaceremo ascoltare. E' un'altra partita. Ma che è il gelo? Vabbè, ora mi stanno... Vabbè, ora mi stanno... Vabbè... Allora... Allora... Dì e Simona che può fare un po' di riprendere la naranica di l'acqua... Grazie a tutti.